Doveva essere così? Ma cosa è tutto questo scrivere domandandosi? I compagni lì circostanti, i guardiani, dell'omino indubbiamente nevrotico, è parecchio sulle sue, nelle apparenze, a incurvarsi molto più che già non fosse sopra i quaderni, tranne l'ora dell'aria, che figurarsi attori come era pura e gli esercizi del corpo in peggiune, unica quotidiana religione. E' semplicemente per dirti come la storia dei libri indossa il più delle volte abiti dai gomiti lisi e colui al quale condiscendenti irridiamo coltiva nell'augusta solitudine la mente. Chi mai, e io che ti parlo tantomeno, nell'anno 1937 poteva ben al di qua della tua era supporre quel pessimismo di intelligenza nell'imperiale calangure la volontà protesa quando muore. Grazie Grazie